Quindi, questa è una delle dimore sicure? Qui sei al sicuro, è un dato di fatto. Qualcuno ha scelto per noi, ci ha dotati di viveri e comfort, ci ha posti a custodi di questa dimora, o forse la dimora che custodisce noi. Contavo di avere maggiori informazioni da te. Ricordo solo stanzoni vuoti. Ci ha dato sicurezza, ci ha dato qualcuno di simile per vivere assieme. Jacob non è umano, è un robogramma. Difficile immaginare cosa può mancarti se non hai termini di paragone.